Siamo qui con Giuseppe Camuncoli e volevamo porgere alcune domande, insomma. In primis, quali sono i progetti a cui sta lavorando attualmente? Allora, attualmente sono a lavoro su due serie americane, contemporanea, una è Amazing Spider-Man, c'è la serie storica dell'Uomo Ragno, che da nove mesi sto disegnando come uno dei tre disegnatori principali, e il Blazer, che è la serie della Vertigo con John Constantine come protagonista, di cui fu tratto anche tempo fa un film con Keanu Reeves, insomma. Sono due serie molto diverse tra loro, che però mi danno veramente parecchie soddisfazioni, sia l'una che l'altra. E progetti futuri, insomma? Ma allora, intanto, sono padre da quattro mesi, quindi questo è il progetto principale, quello di riuscire a essere un buon padre per mia figlia Martina, grazie, ne avrò bisogno, no, lei è fantastica però in generale, e poi niente, penso che continuerò con queste due serie, ancora non so quanto andrò avanti, però per il momento sono fisso su queste e così starò, insomma. E per quanto riguarda le fiere, una prima impressione su questo Cavacon? Ottima, ottima, prima volta a Cava, la fiera mi sembra organizzata benissimo, la struttura è fantastica, voi siete in gamba, quindi io mi sono pure fatto un drink come aperitivo, quindi sono perfetto, sono contentissimo. Avremo la possibilità di rivederti in fiere future? Ma penso di sì, tra l'altro questa è la prima fiera che faccio praticamente da quando mia moglie era incinta, perché sono stato fermo quasi un anno, trovandomi qua, la coincidenza, sono venuto volentieri, quindi sicuramente adesso ripartirò con calma, ma insomma sicuramente mi rivedrete in fiera, sì. Grazie.